ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi continueremo a giocare che giochiamo a Aerotrack Simulator 2 allora ragazzi noi praticamente abbiamo giocato quantissime volte l'aerotrack oggi voglio portarvi un nuovo video su Aerotrack insomma con il volante di 300 allora questo volante l'ho preso da poco tempo ho fatto anche ho fatto pure qualche video su versione Xbox Series S quindi oggi ci facciamo un piccolo viaggio ci facciamo ho già impostato la rotta o c'è l'ho impostato infegliamosi adesso qua ovviamente non va ad aspettare allora ragazzi penso che adesso l'abbia impostato bene vediamo non sto utilizzando le cuffie allora ragazzi guardate noi siamo lasciati allora io sto andando più fino al giro intanto allora ragazzi comunque ho voluto portarvi anche in questo gioco perché non ci sta di portarvelo a un nuovo gioco in un'azione Aerotrack è un gioco che non è riuscito perché io devo portarvelo quando in un nuovo volante giusto anche per vedere come si comporta il nuovo volante vediamo questa situazione ecco eh onestamente le sensazioni su questo volante qua sono pazzesche cose sono pazzesche aspettate che devo mettere questo è il nostro uccanere il nostro esatto che invece non ci sta di dovere bene uscire adesso mi lascio il posso guardare questa scusami stavo utilizzando una scheda l'acquisizione però ci sta anche di portarvi erotrack ci sta andiamo oh madonna mi sta un pentagonare intanto andiamo a prendere il carico sono molti sono molti guardate come vibra il volante c'è qualcosa di decenzionale sono veramente soddisfatti su questo volante e poi considerando ragazzi che io sono partito con G27 ci avevo 15 gioco per me però per farmi capire la differenza c'è paragone ragazzi questo proprio viciniare questo volante viciniare il volante lasciamola 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 vedere tutte queste cose e noi pensiamo mamma spero che l'auro ci senta bene guardare poi qui guarda guarda ma perché massimo comunque forza ah, quanti? a prova c'è? ehm, ho messo il motocamp adattivo in modo che praticamente scusate 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 ma sarà bene, grazie ma gentilissimo no prepararsi a voltare a destra voltare a destra voltare a sinistra voltare a sinistra allora vediamo un po' 3.000 8.000 vabbè facciamoci questo yogurt adesso portiamo yogurt portiamo yogurt quindi quindi quanti? l'obiettile basso come per ora che cazzo vabbè lo fa prendere qua Non manca il toby, però ragazzi onestamente non lo voglio dipitare, mi dispi sono più curato, mi piace che è un bello, è un bello, è un bello, è un bello. Miseria, dai. Vabbè dai ci sta, ora anche il video sull'autobac. Ok, andiamo. Allora, vamo ragazzi, abbiamo qualche metodo di chilometri. Non so, onestamente va bene. Posso dare l'avore più caldo. Ho detto ciao ragazzi. Poi è passata qui. Adesso. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Comunque sto utilizzando la versione del gioco. Voltare a destra. Sto utilizzando la versione del gioco 1, la beta insomma, la 1.47 beta. Quindi, come grafica, ragazzi, questo gioco è veramente cambiato, eh. Parlando. Poi, come registrazione, sto anche utilizzando praticamente la scheda d'acquisizione. E' legato a HD60 Pro, anche se devo prendere. E vedo la necessità di crancare una macchina di video. Pro, come neanche la parte più del gioco, è che ecco qua, devo prendere anche cose molte cose. Ovviamente, mi devo riposare, eh. Con la staccate del buono, mi importa più se... però è qualcosa di eccezionale l'intenzione, come si sente sembra che stai bene sembra che stai bene io non c'avevo tanto però non c'era ancora il soggetto si sto cambiando e mi sono preso questa carretta è bello questo pure per carità non fa niente più 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 in quanto poi devo portare anche un po' di un po' di ragazzi il problema è che di fatto è questo non posso portarvi tenersi a destra e dopo uscire a destra non posso portarvi anzi tutto in ultima volta perché il lavoro non me lo consente ragazzi uscire a destra un po' di tempo libero mi piace anche a sinistra un po' di 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 dobbiamo fare ancora tanti chilometri però piano piano ci rifacciamo ragazzi che ci frega che ci frega però sembra che abbia trovato una soluzione per poter giocare e quale video anche su ovviamente la schede ad acquisizionale ragazzi molto semplice però dovete scusarmi se la Quando il sound si sente bene, sto camminando a 180, piano piano, piano piano, c'è una faccia Vabbè poi dopo vi faccio vedere a molto che ho messo Magari ve la metto in descrizione se potrò usare Praticamente in fase di registrazione è sfrutturizzato Poi si vede per gli sit problemi, ma si sta vedendo Non si scura, non si scura Intanto iniziamo a andare a andare a testianzole senza fare da niente Iniziamo a andare a testianzole a testianzole Anche se non voglio un occhio di iniziare Molto nevate, tipo un renevato Succede per l'altro Abbiamo avviato Questa è una base a 120 Ora è un luogo di shock completamente Non mi dicevo che è un contenitore Ragazzi questa vibragma è una maziesca Vabbè E poi ciò Doviamo andare È un luogo di ciò Non ci sta mettendo la cosa perchè non mi sono fatta frecce mi importa, non mi importa io devo arrivare a destrazione ragazzi vediamo se c'è qualcosa di mi sto piacendo sempre di più niente vabbè ragazzi, ditevi voi che cosa volete che dite devo prendere così almeno guardiamo insieme comunque sto a tapoletta sto praticamente a tapoletta venersi a destra e uscire a destra uscire a destra uscire a destra sto ricalcolando per corso vabbè sto calcolando per corso ci sta uscire un po' 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 Siamo quasi arrivati, ovviamente il video se ne va a farsi benedire. Abbiamo cambiato un po' di impostazioni. Impostazioni ragazzi. Intanto andiamo ditto per ditto, se quant'ho stancato, potrò farmi arrivare a distanza adesso. Siamo convintati. Porta a venersi a destra. Uscite a destra. Uscite a destra. Uscite a destra. Ripararsi a portare il Inferno. Voltare a sinistra Voltare a sinistra Vabbè dai, comunque è importante che siamo arrivati a sinistra Senti, va bene Allora Trecenti Molto stanco, sì lo so che sono stanco Però non è che Mi fanno una colpa Qui hanno tutto il E 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 Vabbè ragazzi il video spero che spero 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 che sia stato di vostro gradimento comunque sia Come sempre vi chiedo se volete iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto Un saluto a tutti Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao